Pino Gentile è un politico di lungo corso, è stato assessore regionale, consigliere regionale da 5 legislature, è stato sindaco della città di Cosenza, è un politico di sostanza di questa nostra regione. Pino Gentile all'inizio di questa legislatura è stato letto vicepresidente del Consiglio regionale nonostante la minoranza, non facesse parte della minoranza prevalente nel Consiglio. In questi giorni si dovranno rinnovare gli organi dell'ufficio di presidenza del Consiglio regionale. Il centrodestra che lavora all'unità però non ha preso in considerazione la rielazione del vicepresidente del Consiglio uscente. Cosa succederà? Certo è che il Consiglio regionale per l'8 agosto è stato rinviato, certo è anche che Pino Gentile insieme al fratello Tonino Gentile, sottosegretario all'attività economica del presidente Gentilone, quindi componente di questo governo, sono politici che più volte nelle dinamiche di lotta e di battaglia politica in questa regione hanno cercato di far fuori, però con scarsi risultati. In occasione delle ultime elezioni regionali i fratelli Gentile hanno corso in piena autonomia rispetto a destra e rispetto alla sinistra, tutti li davano per spacciati, però sono riusciti invece non solo a raggiungere il quorum ma ad eleggere tre consigliere regionali. Il Consiglio regionale è riunito a settembre, conoscendo la consistenza di questi politici c'è da ritenere che ci sia stata una valutazione superficiale da parte del centro-destra e credo che c'è da credere che coloro che pensano di eliminare, liquidare così facilmente un politico con la stoffa di Pino Gentile, penso che abbia fatto male i conti. Tuttavia, alla ripresa dell'attività politica vedremo se avremo torto o ragione. Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie a tutti!